Buongiorno, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo. Per me di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like e attivare la campanellina. Parliamo oggi del tempo previsto sull'Italia nel corso dei prossimi giorni, in particolar modo a partire dal 10-12 di marzo, quando l'anticiclone della Zorra ancora per una volta dovrebbe risalire verso il nord Europa fino a toccare la Groenlandia e l'Islanda, che dovrebbe mettere in moto dunque un cavo d'onda gelido in modo retrogrado verso il bacino del Mediterraneo e verso l'Europa centrale e dunque anche l'Italia, direttamente dal comparto russo-scandinavo. Tale nucleo freddo, poi in concomitanza delle precipitazioni molto intense, grazie ad un minimo depressionario posizionato tra la Corsica e il Mar Ligure, dovrebbe far entrare ancora una volta temperature tipiche del mese di gennaio-febbraio, comprese tra la meno 4 e la meno 8 soprattutto al centro e al nord. Vi ricordo che questa è ancora una tendenza.